Al via sul Cervati uno studio sulla migrazione degli uccelli, il primo nel suo genere sull'appennino meridionale. Migrandata Cervati è il nome del progetto, un monitoraggio dell'avifauna migratrice stanziale attraverso la tecnica dell'inanellamento a scopo scientifico. Parte da oggi e dura fino al 5 settembre. La migrazione degli uccelli è fra i fenomeni biologici più affascinanti, eppure la scienza non ha ancora svelato tutti i suoi segreti, almeno per quel che riguarda la migrazione di andata, che avviene a partire da fine agosto e in autunno, quando gli uccelli si spostano in Africa. Il monitoraggio riguarda soprattutto gli uccelli transaariani. Lo scopo è di colmare un gap di conoscenze, raccogliendo informazioni utili sulla comunità ornitica presente di passaggio sul Cervati per almeno tre anni consecutivi, sempre tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. Un'indagine di estrema importanza in quanto gli ambienti aperti di alta quota dell'Appennino sono quelli che maggiormente vengono colpiti dall'emergenza climatica e gli uccelli che le utilizzano rischiano di sparire in tempi brevi. La stazione di inanellamento sarà situata sul Monte Cervati, a 1.880 metri di altitudine, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che patrocina la ricerca. E va ad aggiungersi alle pochissime stazioni di alta quota presenti in Italia. A rendere ancora più interessante il progetto sono le condizioni in cui opereranno i ricercatori. Il campo base sarà collocato nei pressi del santuario della Madonna della Neve, dove non è possibile agganciarsi alla rete elettrica. L'acqua non potabile sarà razionata e quella potabile verrà portata in quota ogni giorno. Una volta che il sole sarà calato scenderanno le temperature e sembrerà di essere in inverno. Il campo inoltre sarà completamente plastic free. Grazie a tutti.